Apertura posticipata al liceo scientifico Torelli di Fano dovuta ai lavori per il miglioramento sismico e per la bonifica di amianto diretti dalla provincia di Pesore Urbino, proprietaria dell'edificio scolastico. Interventi iniziati nello scorso mese di giugno e monitorati anche dalla dirigenza dell'istituto, che preoccupata per la tempistica ha più volte inviato segnalazioni e sollecitazioni. Di recente poi ha verificato che gli operai avrebbero potuto lasciare il cantiere interno solo poco prima dell'inizio delle elezioni. Per questo la dirigenza ha deciso di convocare per mercoledì 10 settembre una riunione urgente con i rappresentanti del liceo, l'ufficio scolastico territoriale, la provincia, il comune, l'Asur e la ditta paltatrice. In questo incontro si è ritenuto opportuno eseguire opere di pulizia straordinaria, di sanificazione e di verifica delle condizioni igienico-sanitarie. Per consentirlo il sindaco di Fano Massimo Seri ha emesso un'ordinanza con la quale si vieta l'uso temporaneo dei locali fino al 20 settembre prossimo e quindi gli studenti torneranno sui banchi di scuola la settimana successiva. Insieme ad ARPAN faremo, anche se non è previsto per legge, ma perché lì ci sono gli studenti, io non voglio un minimo di dubbio e un minimo di preoccupazioni che gli alunni, gli insegnanti e gli direttori abbiano. Quindi in questi due giorni faremo anche un'analisi da parte di ARMA per verificare se ci fossero dei residui che abbiano a che fare con l'amianto, anche se problemi non ce ne sono, però vogliamo essere sicuri non al 100%, al 200%. Allora abbiamo procrastinato di qualche giorno l'apertura della scuola perché vogliamo essere garantisti, perché parliamo di studenti, sono i nostri giovani, non vogliamo avere preoccupazione domani di improverarci qualcosa. Quindi è un provvedimento che va nell'interesse degli studenti, questo è stato apprezzato e anche richiesto dal preside professor Giombi, quindi questa è la ragione per cui è tutto a posto. Anzi, devo ringraziare la provincia per il buon lavoro che hanno fatto, per le risorse che sono state destinate per la nostra città.